Abbiamo qui in ospite con noi Francesco De Santis, abbiamo parlato molto di titoli bancari, so che come ben per i bai avete allargato l'offerta recentemente con una nuova tipologia di prodotti decisamente interessanti, si chiamano Recovery 80, sinceramente non li conosco, spiegameli. Non li conosci perché non sono ancora usciti sul mercato, non li abbiamo ancora emessi, è la prima volta che emettiamo questa tipologia di strumenti, l'abbiamo pensato appunto per quegli investitori che hanno avuto delle perdite magari importanti su azioni o su anche certificati, che purtroppo molti di questi hanno toccato la barriera, dobbiamo segnalarlo, giocano su tre aspetti importanti, la prima è una questione forse meramente psicologica però aiuta, sono emessi a sconto, si chiamano Recovery 80 poiché sono emessi a un prezzo di 80 euro per certificato e prevedono un massimo rimborso di 100 euro, quindi con un potenziale rendimento da 80 a 100 del 25% in due anni. Le scadenze sono per tutti questi strumenti due anni di durata e il secondo vantaggio è questo, abbiamo una performance, un moltiplicatore della performance del sottostante pari a 2, quindi abbiamo una leva 2 sulla performance del sottostante per performance positive, cosa vuol dire? Che se il titolo a scadenza ottiene una performance del 5%, il certificato avrà una performance del 10% a scadenza. La terza fattispecie è una fattispecie di protezione, la barriera, tutte le barriere sono poste al 50 o al 60% dipende dal sottostante, molto profonde e a scadenza, questo è bene segnalarlo perché sono verificati negli ultimi mesi vari eventi barriera, perché molte barriere erano in continuo con la probabilità molto alta, diciamo che è possibile in questo momento finanziare degli strumenti che abbiano anche una barriera a scadenza, quindi questo è opportuno segnalarlo. Quindi per ricapitolare abbiamo tre scenari, lo scenario positivo ovvero il livello del sottostante a scadenza, quindi dopo i due anni è sopra il valore iniziale che ora vedremo, abbiamo che il prodotto rimborsa il nominale 80 euro più il doppio della performance, ricordo che c'è un massimo rimborso pari a 100 euro, quindi se abbiamo la performance del, dicevamo 10%, io ottengo il 20% su 80. Secondo scenario, quello intermedio, il sottostante non è al di sopra del livello iniziale ma è sopra la barriera a scadenza, ricordo la barriera tra il 50 e il 60%, io ottengo comunque il mio capitale a scadenza, quindi 80 euro, altrimenti ho la performance del sottostante rispetto lo strike, quindi se siamo al di sotto di questi livelli barriera, io avrò la performance del sottostante. Faccio vedere ora gli strumenti che hanno fatto strike venerdì, qui vedete che i titoli maggiormente rappresentati anche per un discorso di perdite maggiori sono quelli bancari, troviamo comunque un credit intera San Paolo, Popolare di Milano, Mediobanca, ma anche titoli del settore industriale, comunque non del settore bancario, vedete gli strike che sono questi che trovate nella terza colonna, vedete ad esempio Unicredit che ora si trova a livelli più alti ovviamente dato la performance di oggi, comunque uno strike a 3,19, quello che a mio parere è molto interessante è la questione della barriera, poiché avete delle barriere estremamente basse, su Unicredit 1,59, su Intera San Paolo 1,16 e così via, che quindi possono risultare interessanti per chi magari abbia, si voglia di avere un recupero, da qui il termine recovery, sul proprio portafoglio, ma dall'altro lato voglia avere comunque un titolo un po' più protettivo, comunque con un profilo di rischio un po' più moderato. Questi titoli non li trovate ancora sul sito, poiché non sono ancora usciti sul mercato, saranno disponibili tra mercoledì e giovedì di questa settimana, sono quotati da BNP Paribas appunto sul mercato SEDEX, quindi trovate tutti questi che vedete in questo momento nella slide sul mercato, partiranno da un prezzo che è di 80 euro, ripeto, e li troverete sul sito con brochure, comunque informazioni molto più dettagliate di quelle che sto dando io dalla data di emissione, quindi da metà di questa settimana e li potete ovviamente negoziare come un qualsiasi titolo, come un qualsiasi certificato che avete in questo momento in portafoglio o comunque che avete nel sito in questo momento. Perfetto, quindi andremo sicuramente a guardare sul sito, quindi prodotti indicati in un'ottica di medio e lungo termine, immagino, se l'ho capito bene, e soprattutto ideati per recuperare le minusvalenze progresse, quindi chi ha delle minusvalenze nel proprio portafoglio può pensare a questa alternativa di investimento. Grazie Francesco. Ce n'è qualcuno di questi qua che è veramente molto interessante. Sì, cosa hai visto in particolare Francesco? Ma adesso non è che voglio dare suggerimenti per l'acquisto, perché veramente sono... No, 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 visto che io non riesco a vedere bene le slide. Allora, vedere ad esempio una Eni con una barriera a 60% è già qualche cosa, una Eni e una Enel con barriera a 60% secondo me è molto interessante, cioè quindi sono titoli che hanno delle volatilità di solito molto minori, cioè quindi anche in caso di un worst case scenario, diciamo così, sicuramente non sono quelli tra i più colpiti dalle fasi di ribasso, quindi vedervi paragonati a titoli che magari hanno delle volatilità anche superiori. io ad esempio, se dovessi scegliere, a me piacerebbero molto quelli, ecco, sarei più conservativo anche perché comunque sia se effettivamente il mercato recupera, tu vai comunque a un massimo del 25%, cioè anche se tu prendi un titolo più volatilità è giusto questo che ho capito. quindi ecco, volevo solo dire questo, magari non so se è allineato a un po' alla logica di costruzione dello strumento. Perfetto, allora i prodotti sono piaciuti anche a Francesco, quindi perfetto, direi che anche… Interessanti, cioè non è che io dico bisogna coperare, perché sono interessanti. Assolutamente. Grazie.